...proprio portiere di Gregorio e il giropalla lo chiede ...de San Nino ma chiede un giropalla veloce più... ...cinaliato qui in mezzo Nardi ...e... ...eusepi lo attacca Amane che non lo lascia respirare poi allarga Eusepi sulla sinistra Visconti, Schiavi ...eusepi va a recuperare nel cerchio di centrocampo Tartaglia ...eusepi raddoppiato, difende bene palla salta anche Paolucci che... ...eusepi prova a difenderla contro Gigli Eusepi in area di rigore, deve stare attento Gigli a non usare troppo le braccia parte il cross sul secondo palo, Nardi leggermente in ritardo Eusepi prova a tenerli ingabbiati tre maglie rosso-blu Gemelli con un fallo secondo l'arbitro però va bene due cambi mentre adesso ha il pallone in avanti Eusepi che tiene ancora il possesso Eusepi verso Bastoni Silvio Piola di Bercelli non ha visto né vincitori né vinti è stato un 1-1 deciso da due ... ... ... ... ... che è andato in panchina proprio a Cuneo per la squalifica di Dalcanto di Gonzales facendo rumoreggiare il pubblico che ho Eusepi Schiavi qui probabilmente non servito sul movimento Caturano sbaglia ancora a 4 almeno apparentemente il Novanac se poi invece andrà a tre stoppa il tocco di Gemelli che viene anticipato punti per tanto seguiamo Caccia Caccia è una riguola che tocca a Burzigotti Gonzalo è di rigore ma non riesce ad effettuare la prima occasione il traversone e poi il pallone dentro per Bastoni che può andare sul fondo a mettere il traversone arriva sul primo palo messo fuori poi Messias Eusepi con la rovesciata e Casade con la manona mette il calcio da prova a salire trova il capitano Schiavi ancora Tartaglia avanza va da Nardi sulla destra mette in mezzo questo pallone Nardi per la testa di Eusepi è il pareggio del Novara ha una prateria va verso l'area si sposta da Schiavi che controlla dove c'è Eusepi controlla Nardi Eusepi il tiro a rete è il quarto gol del Novara sarà la squadra da battere in questo giro in occhio qui al cross in mezzo poi la conclusione la rete ha segnato sovrapposizione di Birindelli che viene premiata in questo momento parte Birindelli il cross in mezzo per Eusepi lo stacco è